Ciavarella Costantino, De Luca Loris Pio, La Torre Matteo, Stefania Leonardo, Di Salvia Lorena, Macione Pietro Paolo, Accadia Anna Angela, Zuccaro Antonio, Di Salvia Maura, Stanisci Liliana, Sassano Costantino Valentino, Tardio Arcangela, D'Antuono Giampaolo, Tiscia Antonietta, D'Ambrosio Mario, Gualano Piero Paolo, Tancredi Costantino. La seduta è valida. Buonasera a tutti. Procediamo con l'ordine del giorno. Piano comunale per la disciplina del commercio a repubbliche, medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale, centro storico, modifiche o integrazioni. Relaziona il Presidente del Consiglio. Signor Sindaco, signori consiglieri, assessori, oggi andremo a modificare e approvare per quanto riguarda il piano per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche in merito alla 177esima fiera d'ottobre. In merito a questo ci sono state varie delibere consigliari, di cui la 13 del 2014, la 20 sempre del 2014 e la 52 del 2016. Con queste delibere si sono andate ad integrare e modificare le autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio e sono state introdotte alcune vie come via San Francesco e via Monfort e con l'ultima modifica del 30 novembre 2017 con atto consigliare numero 7 inerente proprio all'integrazione nell'argomento specifico che stiamo trattando per lo spostamento dell'attuale zona fiera d'ottobre. Tanto premesso, pongo all'attenzione di questo consesso circa le modifiche e integrazioni che andremo ad apportare. Al titolo quarto, capo quinto dell'articolo 37 della fiera d'ottobre del Gargano e del relativo allegato F deliberazione consigliare numero 13 del 2014, così come modificato con citato atto consigliare numero 7 del 2017 andremo a modificare per le seguenti motivazioni. La fiera d'ottobre del Gargano, appunto con la citata deliberazione consigliare numero 7 è stata collocata nelle seguenti strade via Salvemini, via Valente, via Nenni, via Le di Vittorio, via Socrate, via Campanello, via Cartesio, via Santommaso, via Bacone e via Galluppi per un totale di posteggi 102, come d'allegato 6, lasciando invariato il resto di quanto stabilito nell'allegato F della deliberazione consigliare numero 13 del 2014. A tale proposito è il caso anche di evidenziare che nella deliberazione consigliare numero 7 del 2017 vi è un errore, nel senso che nella narrativa vengono evidenziate le strade appena accennate, mentre nel dispositivo viene citato come riferimento l'allegato 5 invece dell'allegato 6, regolarmente approvato. Ciò apposto l'amministrazione comunale ha ricevuto verbalmente tantissime richieste sia dei commercianti, sia delle associazioni di categorie e sia anche dei cittadini al fine di ampliare l'area della fiera. Pertanto vada a sé che l'ampliamento e il prolungamento non può essere che definito tal quale rispetto a quanto avviene per il mercato bimensile primo venerdì del mese ossia proseguimento di Viale di Vittorio dal numero 103 al numero 117 del settore non alimentare per metri 6 per 5 cada uno e via Tarantone dal numero 118 al numero 134 del settore non alimentare sempre per metri 6 per 5 cada uno, come riportato nell'allegato 6 bis. Con questo chiedo un'ulteriore attenzione anche ai presenti sulla seguente proposta inerente al medesimo articolo 37 già citato mi riferisco appunto proprio all'area destinata alla gastronomia al gusto, alla valorizzazione dei prodotti tipici locali ovvero Piazza 4 Novembre, Parco della Rimembranza e Viale Papa Giovanna XXIII, Marciapiede Alberato. Tale manifestazione come ben noto cade in coincidenza con la fiera del mercato dell'1, 2 e 3 e di venerdì, sabato e domenica del mese di ottobre di ogni anno sempre in Piazza 4 Novembre, Parco della Rimembranza Viale Papa Giovanni XXIII del Marciapiede Alberato. Con questo si propone in un'ottica di semplificazione burocratica e amministrativa di snellire l'articolo 37 richiamato e delegando la giunta comunale nella decisione di affidare all'organizzazione di quanto appena menzionato ad associazioni generalmente definite che ne facciano espressa richiesta. Per tutto quanto appunto precisato chiedo a tutti i presenti di approvare le accennate modifiche e integrazioni al piano comunale per la disciplina del commercio delle aree pubbliche, di media struttura e di vendita e delle strutture di interesse locale del centro storico. Considerato che l'ufficio SUAP a norma della legge regionale del 24 del 2015 ha inviato le prescritte comunicazioni alle associazioni di categorie come da noti alla presente di operazione fascicolate la medesima procedura è stata eseguita nei confronti dei responsabili dei servizi o dei comunali interessati i quali hanno sottoscritto appunto i seguenti pareri. Pertanto i pareri che ci sono stati dell'urbanistica in data 4 settembre 2019 la Polizia Municipale con due pareri il primo del 4 settembre e il secondo in data 10 settembre dato atto del parere favorevole fino alla priorità tecnica espresso dal responsabile menzionato in essenza dell'articolo 40 del testo di legge sull'ordinamento degli enti locati approvato il decreto legislativo 18 agosto del 1967 invito i presenti ad approvare la menzionata delibera di consiglio comunale per quanto riguarda il parere c'è il parere nella notte questo qua questa qua voglio porre anche l'attenzione di voi presenti per quanto riguarda i pareri che sono stati espressi in merito a quello della Polizia Municipale con cui leggo testualmente il primo in data 4 settembre 2019 le testuali parole del comandante in relazione all'ampliamento dei posteggi e la fiera di ottobre così come riferito nella riunione con la giunta comunale tenuta il 29 agosto ultimo scorso poiché il mercato rimane per tre giorni dalla mattina alla sera tardi per motivi di sicurezza e per evitare disagi ai cittadini della zona della palestra e vi assistente si esprime parere favorevole solo per l'utilizzo dei posteggi del prolungamento di via Giuseppe di Vittorio tratto compreso tra via Vincenzuoco e via Gioberti il secondo invece datato in data 10 settembre 2019 cita in relazione alla richiesta di parere di cui ha presente messaggio come ha già avuto modo di rispondere alla precedente identica richiesta e come ha riferito l'architetto Paparillo Giovanni che si è assicurata la sicurezza così come pure riferito nella riunione tenutasi con la giunta il 29 agosto ultimo scorso nella riunione tenutasi ieri 9 settembre con il sindaco e il vice sindaco e il presidente del consiglio impegnando via Tarantone vengono compromesse le vie di accesso dei mezzi di soccorso e di fuga dell'intera zona per tre giorni si ritiene opportuno che da un punto di vista tecnico debbano essere interessati i due responsabili dei servizi urbanistica il comandante dei vigili il dottor Pietro Bortone quindi visto lo stesso i pareri e apportati delle modifiche nel corso della presente fiera come da piantina che è stata allegata chiedo ai consiglieri di approvare la presente delibera ci sono niente possiamo passare con la votazione favorevoli contrari astenuti per l'immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti passiamo all'accapo successivo convenzione per la gestione associata delle funzioni dei servizi socioassistenziali piano sociale di zona 2018-2020 ambito territoriale e sociale di San Marco in Lamis parziale modifica della debilazione del consiglio comunale numero 16 del 4 maggio 2019 relaziona il sindaco buonasera in merito a questo deliberato non è che è un altro di rettifica del deliberato precedente ma non perché il deliberato precedente era sbagliato assolutamente siccome nell'ambito del piano di zona c'è un'evoluzione per quanto riguarda la gestione dei servizi sociosanitari che dovremmo passare dal rapporto a convenzione al rapporto di azienda di servizio di funzione questo non si sa quando anche perché è tutto ancora in itinere però si dovrebbe a breve iniziare un percorso concreto siccome purtroppo l'attività economica e soprattutto i bandi vogliono che ci sia un accordo stipulato da parte di tutti i comuni e noi celermente l'abbiamo fatto già nel mese di maggio in quel deliberato non si parlava del comune capofila perché si pensava ad avere la possibilità di arrivare al consorso i servizi nel corso dell'anno e si dedicava poi dopo la possibilità ai comuni di inserire il comune capofila che si riteneva opportuno metterlo in continuità tutto questo è avvenuto fino a poco tempo fa perché si pensava che bene o male il comune capofila potesse essere svolto al comune di San Giovanni Rotondo però con le elezioni del nuovo sindaco e della nuova amministrazione di San Giovanni Rotondo ha rifiutato assolutamente di essere comune capofila io personalmente non mi sono sentito in coscienza di dire che San Giovanni Rotondo potrebbe essere comune capofila per quanto riguarda l'ambito sociale di zona anche perché questo comporta un ordine organizzativo e particolarmente oneroso per quanto riguarda le condizioni del comune che ha una carenza di personale che noi tutti conosciamo per cui a meno che il consiglio non decida che noi potremmo essere comune capofila allora a quel punto si potrebbe già dire all'ambito che ci sta una piena disponibilità da parte del comune di San Nicandro perché questo possa esserlo però si è deciso nel coordinamento istituzionale di continuare quello che è l'attuale assetto amministrativo finanziario come comune capofila San Marco e Lamis per cui all'interno di questo deliberato non c'è altro che questa modifica che in assenza del consorzio dei servizi si continuerà ad avere comune capofila nell'ambito sociale di zona il comune di San Marco e Lamis anche perché la normativa prevede la normativa sanitaria prevede che laddove c'è il distretto il comune capofila dovrebbe essere attribuito al comune responsabile distretto sanitario per cui si pensa di cioè non si pensa si è detto che comunque va attuato questa modifica all'interno del deliberato di maggio inserendo come comune capofila nell'eventualità che il consorzio dei servizi non viene fatto il comune di San Marco e questo è il deliberato che noi dovremmo adottare questa sera sono richieste richieste nessuno siamo alla votazione favorevoli uni assente uni assente contrari astenuti per l'immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti due passiamo al capo successivo interrogazioni e interpellanze che bel consiglio comunale senza interrogazioni non ci sono interrogazioni senza interpellanze se non c'è altro consiglio comunale chiuso buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti